Tutorial parallel bar support hold, esercizio propedeutico per i dip alle parallele, braccia distese sull'attrezzo in blocco articolare dei gomiti, spalle depresse quindi che spingono verso il basso, addome in contrazione, glute in contrazione, distendere le gambe qualora possibile, evitare di incrociarle, se tocchi con i piedi il pavimento perché le parallele sono basse, flettere le ginocchia. L'errore più comune di questo esercizio è non deprimere le spalle, quindi mantenere i trapezzi vicino alle orecchie. Bisogna cercare di spingere al massimo poiché quando andrai ad eseguire i dip alle parallele avrai già una postura impostata correttamente.